Squadre come Monza, Torino, Napoli, Genoa sono una disperata ricerca di esterni perché comunque è un ruolo che fondamentalmente adesso è cambiato rispetto agli anni scorsi e rispetto a generazioni fa, quindi all'esterno è chiesta molta più capacità di corsa molta più aerobicità, diciamo così quindi il discorso di saper coprire una maggior porzione di campo per tutti i 90 minuti e fondamentalmente molto spesso vi sono stati problemi nel cercare dei nomi, nel trovare dei nomi addirittura e magari dare fiducia insomma a giocatori che sono un po' magari non proprio l'emblema della continuità in campo ma fondamentalmente mi sono venuti in mente due nomi il primo un po' più conosciuto, il secondo meno il primo nome è Leonardo Sernicola, classe 97 della Cremonese che ha già comunque un'ottima esperienza del calcio professionistico tenendo conto insomma che il 30 luglio del 2024 compirà 27 anni però è un giocatore che secondo me rappresenta la duttività e le caratteristiche fisiche soprattutto per fare l'esterno tutta fascia in Serie A squadre come ad esempio il Torino che cercano, o meglio hanno ammesso insomma già nell'estate 2023 di cercare il nuovo Ansaldi beh avere un giocatore eventualmente come Sernicola esperto ma non vecchio che sappia giocare su entrambe le fasce che sappia giocare ad esterno difensiva 4 ma anche ad esterno di centrocampo a 5 che sappia giocare soprattutto con entrambi i piedi ma soprattutto che ha messo a segno insomma in ultima stagione anche un buon numero di cross cosa che al Torino manca insomma secondo me potrebbe essere un profilo molto 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 interessante da vedere poi eventualmente se la Cremonese sarebbe disposta a andarlo via insomma adesso soprattutto che si sta giocando le parti alte del playoff della zona playoff ma avere uno come lui secondo me sarebbe un quid in più è normale che per un giocatore così è richiesto un adattamento un po' più immediato alla massima serie perché comunque ripeto non stiamo parlando di un giocatore di 20 anni quindi uno già a 27 anni si chiede insomma che già abbia un quoziente di incisività nella squadra che sia già importante d'altro canto comunque c'è il discorso che appunto ti prende un giocatore esperto quindi l'altro lato della medaglia quindi uno che già conosce la serie che non ha problemi ad affrontare certi tipi di avversari che comunque già fece bene e l'ultima stagione in Serie A insomma si è messo sotto i riflettori insomma e a me piace veramente tanto come giocatore anche perché veramente soprattutto fisicamente ti regge i 90 minuti in modo clamoroso un giocatore che ti sa saltare l'uomo certo ovviamente te lo sa saltare da uno che è nato come terzino fondamentalmente ma attenzione perché anche per chi gioca col difesa 3 se Nicola ha fatto anche il braccetto quindi stavamo parlando in uno degli ultimi video del Torino ecco che un Sernicola che lì fondamentalmente è un destro lo utilizza molto bene anche il sinistro in situazioni di emergenza anche il braccetto te lo può fare quindi magari che ne so è fuori un GG un Sebastian Caceres non ti arriva non ti arriva un Bonifazi e tutte queste cose bellissime ecco che un Sernicola tu in fase di emergenza lo puoi anche mettere quel braccetto prima cosa qui ripeto a me piace veramente tanto questo giocatore cioè lo trovo molto 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 continuo il secondo nome del quale volevo parlarvi è un classe 2001 greco sempre che gioca in Serie B nella matricola Catanzaro che sta facendo veramente tanto bene in questa Serie B e vi sto parlando di Panos Caceris un giocatore anche lui appunto del 2002 fisicamente impostatissimo perché ragazzi è un trattore un po' mi ricorda un altro greco Alberto Strussos giocatore che insomma giocava molti anni fa nella primavera Juventina poi non ha avuto assolutamente una gran carriera però un giocatore di quel tipo quindi di strappo forte fisicamente veloce bella falcata un giocatore che fondamentalmente ha avuto un percorso molto interessante perché lui è partito da D poi si è fatto la C e poi adesso si sta facendo la B l'unica cosa ecco che dal punto di vista della continuità in campo qua sicuramente può e deve lavorare molto nel senso che a Catanzaro ancora non è un titolare fisso quindi un giocatore dei grandissimi mezzi che però non è ancora un elemento fondamentale in Serie B quindi come deve essere letto eventualmente questo profilo? come giocatore da sgrezzare da crescere allora il discorso di Sernicola allora Sernicola fa molti ruoli ma sviluppati negli anni Caceris invece può farne tantissimi ma soltanto 22 anni ne fa comunque nel 2024 23 quindi è uno che deve essere sgrezzato di sicuro ha delle caratteristiche tecnico-tattiche fisiche molto 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 interessanti sa comunque utilizzare molto bene il corpo il discorso è che va assolutamente lavorato perché lui è un destro di piede sa usare bene anche il sinistro conduce molto spesso la palla col destro ma lui ripeto anche in fase di cross usa anche bene il sinistro però centrocampista di sinistra centrocampista di destra terzino destro terzino sinistro ecco bisogna a quell'età quanto meno lavorare prettamente su un un certo ruolo in campo nel senso non puoi fargli fare un giocatore così giovane lo metti in campo una stagione e li fai fare 27 ruoli diversi notizia anche degli ultimi giorni è stata appunto quella riportata anche da Di Marzio che sul giocatore vi sono anche club importanti come il Monza come il Genoa come il Napoli mi sfugge un altro onestamente però vabbè ok e questi sono club molto importanti quindi per lui sarebbe un un salto di qualità dalla serie B da non titolare a lavorare con giocatori di serie A e con staff di serie A molto importante ma se dovesse andare in queste squadre non deve essere preso come o meglio considerato come il giocatore che prendi e lo metti titolare nel calcio ve lo tutto è il conto di tutto ma è un profilo da sgrezzare forse mi scotto proprio il Torino Torino Genoa Napoli aspettate ragazzi che ve lo faccio vedere che ve lo dico più che altro Monza Genoa Torino e Napoli niente mi scotto il Torino strano quindi che succede questo giocatore va assolutamente plasmato in un'ottica di questa società nel Monza il Monza si sa che il paradino utilizza un ciurria a piedi invertito a sinistra ma comunque utilizza estendi di grande spinta e in questo caso Cazzeri ci starebbe a pennello certo ripeto non è da prendere da mettere l'almonza perché come tutti i giovani deve fare un processo di adattamento non dico di un anno ma 4-5 mesi 6 mesi nel video di ieri vi ho parlato di Santiago Castro il centroavanti del Velez e lui sta facendo bene in questa Copa della Liga 2023 quindi nella parte finale del campionato argentino ma nella prima parte lui ha fatto molta panchina certo in 2004 ma gioca in uno dei top club in Argentina che comunque non è paragonabile a un club neopromosso in serie B ergo se Cazzeri dovesse fare questo passaggio ecco che comunque un piccolo prodattamento gli va concesso al Genoa come giocherà al Genoa perché anche in questo caso a volte difesa 3 a volte difesa 4 come lo si schierebbe come piazza la vedere molto fair perché comunque è una piazza neopromossa in A che sta lottando per rimanere in A ma di contro è comunque anche un grande progetto eventualmente per la B ma ripeto in un Genoa lui richiederebbe un po' più di accortezza nel costruirlo nel Napoli e nel Napoli ragazzi qui farebbe il quarto allora tu o lo prendi e li costruisci un ruolo ad osso quindi nella fattispecie visto le caratteristiche di Cazzeris lo metti come terzino sinistro perché a destra si parla di Mazzocchi e penso che per esperienza devi Mazzocchi sulla sinistra magari hai un Olivera che sarà fuori per tempo hai un Mario Lui avere un Cazzeris che comunque ti può crescere all'ombra di questi due ma devi utilizzarlo lì utilizzare un Cazzeris come una riserva di Lorenzo quando John Bresinski ad esempio ti ha fallito lo vedrei un pochino un azzardo io vedrei più Cazzeris per una squadra intermedia ecco un Monza un Genoa un Torino ma sempre in Serie A non in Serie B perché poi il livello massimo di sviluppo in Serie B è magari raggiunto quindi te ne vai in A vieni sgrezzato da staff di Serie A vieni aiutato a crescere da staff di Serie A e vi dirò anche di più non a una neopromossa perché a una neopromossa magari poi ti va a prendere l'esperto nel settore che poi ti relega in panchina il giovane allora ecco per una squadra come Monza e soprattutto come Torino perché il Torino è in cerca di un esterno all'ansaldi io lì proprio rimango ok voi mi dite spesse volte io sono anche d'accordo serve un esterno mancino verissimo verissimo ma se tu veramente Vono Vansaldi che non ha scritto una carta identità senti particolare mancino bensì uno che il destro lo utilizza ma che si sa utilizzare molto bene anche il sinistro in tutte le fasi gioco quindi il controllo nel cross nel tiro uno come Cazzeris potrebbe essere top inserirli inserire questi giocatori in prima squadra ovviamente giocatori come Cazzeris e poi farlo crescere volete un mio parere matto un mio parere matto benissimo ve lo dico subito liberei tutta la fascia sinistra del Torino tutta quindi cederevo Evoda monetizzare su Evoda e a questo punto io vado a investire 7 8 10 milioni di euro per il duo Cernicola e Cazzeris e l'operazione di Cazzeris potrebbe concludersi attorno ai 3 milioni perché la richiesta del Catanzaro sembra essere quella di 4 ma finora mi pare Napoli sia quella che abbia fatto dei passi ulteriori facendo ulteriori sondaggi e non so se anche abbia presentato un'offerta vicina ai 2.5 milioni di euro quindi secondo me sui 3 3.5 più bonus si potrebbe arrivare a un a una quota definitiva onestamente a me inclusirebbe rivedere Cernicola in A rivedere vedere Cazzeris in A e onestamente io penso che tra tutti questi profili contando che il Genoa da Napoli preleverà Vanoli in prestito io onestamente tra Monza Genoa Napoli e Torino a me onestamente piacerebbe vedere il duo Cernicola Cazzeris all'ombra della mole sponda Granata fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate vi mando un abbraccione e ciò al prossimo video ciao ragazzi cazzeris Grazie a tutti.